Gli appennini sono fondamentali per ridurre la crisi climatica, sono un asset fondamentale di biodiversità, di natura e cultura, però oggi vi è più immersi nella crisi perché è un territorio fragile, ricco ma al tempo stesso fragile e quindi più di altri territori il nostro paese deve investire sugli appennini con politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici e la natura è un asset fondamentale, è quasi a costo zero una modalità di mitigare l'impatto del clima per il futuro del pianeta e per il benessere delle persone.